Ciao a tutti cari miei gamers, sono Stefano e benvenuti a questo nuovo tutorial su Flight Simulator 2020 A grande voce, nei commenti, mi è stato richiesto di fare un tutorial su come accendere l'A320 Quindi oggi faremo questo, non solo quello stock di default di Flight Simulator Ma anche quello creato dalla community di FlybyWire, la 32NX Hanno delle checklist completamente differenti Chiaramente quello del FlybyWire è molto più complicata Però fondamentalmente si accendono tutte e due nello stesso modo Quindi se fino adesso eravate un po' titubanti nel provarlo, io ve lo consiglio caldamente Che tanto l'unica cosa complicata è la checklist Per il resto, che poi è anche molto più accurata e veritiera la checklist In alcuni casi Perché anche lì ho trovato alcuni problemi Quindi se vi sentivate un po' intimoriti dalla cosa Non vi preoccupate, scaricatelo senza problemi Che oggi vi faccio vedere un po' come funziona Vi dico subito che a differenza di X-Plane 11 Scaricando questa donna Non è che andate a importare un nuovo aereo Ma andate a modificare quello attuale A sbloccare nuove funzionalità Quindi non vi aspettate di trovare un secondo aereo Quando andate a installarlo Bene, allora iniziamo dal A320 di default Come prima cosa, dopo aver notato che ovviamente l'aereo è completamente spento Tiriamo giù la finestrina della checklist E vediamo che è divisa in tre parti Cioè prima di accendere il motore Accendere il motore E dopo aver acceso il motore Vi faccio notare che a aereo spento Anche l'ATC non è possibile contattarla Ok Però appena attivate le batterie Vedrete che sarà possibile contattare la torre radio Quindi iniziamo da prima di accendere i motori E vediamo che la finestra è divisa in quelle che sono i vari step da compiere Per accendere i motori Abbiamo nella parte di sotto Autocomplete page Se premuto vi accenderà Praticamente eseguirà tutti questi comandi automaticamente E vi accenderà l'aereo Autocomplete item è sempre È solo per ogni opzione singola Quindi se voglio che si occupi solo di questa cosa qui Li faccio autocomplete item E di evaluation invece ci seguirà passo per passo E valuterà se quello che abbiamo fatto è giusto o meno Quindi possiamo iniziare con battery switches Per vedere dove si trovano Se non lo sapete Premete l'occhio E ve le selezionerà direttamente Quindi dice di premere batterie Premere on su una E batteria due In questo modo inizierà a portare un po' di elettricità Ai pannelli In maniera tale da poter iniziare la preparazione di accensione dell'aereo Se io ora premessi Premo evaluation E ora lo faccio così Da farvi vedere cosa succede Il copilota confermerà che io abbia fatto queste azioni Quindi premo evaluation E mi da on Ora da solo passa direttamente al successivo Allora adesso mi chiede l'external power L'external power si tratta di corrente fornita direttamente da terra E serve a tenere in vita l'aereo Per quanto riguarda elettricità Sia nella cabina che nella parte passeggeri Aria condizionata E via Tutto ciò che ha bisogno l'aereo in questo momento Per funzionare in attesa che io faccia partire il generatore Diciamo quello ausiliario interno dell'aereo Quindi ora mi da che è available In realtà se noi guardiamo fuori Si c'è il camioncino della GPU Si chiama ground power unit Però non è veramente collegato all'aereo Quindi quello che faccio io di solito È contatto la tower con il ground service Tune to ground service E gli chiedo il power supply Così che il camioncino della GPU si avvicina E veramente ci collega alla GPU Ora dovrebbe vedersi un cavo Eccolo qui Perfetto Ora siamo collegati al camioncino Quindi available è giusto In alcuni aeroporti magari non è possibile Non è possibile accedere a una GPU Quindi si può accendere l'aereo con l'APU Però in attesa che l'APU si accenda È sempre meglio essere riforniti da corrente Direttamente dalla GPU L'attiviamo E' iniziata a sentire che sta girando corrente all'interno dell'aereo Quindi mi ha detto che gli engine generator devono essere su fault Quindi tutte e due sono su fault e ok L'engine bleed air switch devono essere su on E si tratta di questo E di questo E tutte e due sono su on Perché ora mi dice turn off Quindi significa che in questo momento è su on Ora mi dice di iniziare ad attivare l'APU Quindi di attivare il master On Premere l'APU start E aspettare che l'APU sia pronta Lo vediamo fra quanto sarà pronta nella parte in basso Al 100% apparirà la scritta avail Quindi sarà disponibile Non c'è modo di vedere dai display a quanto siamo nell'APU L'avviamento di essi Quindi l'accendiamo E se sentite Anche qui L'aria che sta andando dentro i motori Quindi ora che è attiva l'APU Possiamo sganciarci dalla GPU Quindi torniamo alla torre di controllo Perché in automatico non si stacca E le diciamo Power supply end Quindi il camioncino se ne va E siamo sicuri che La GPU sia stata disattivata Quindi Ora Iniziamo ad accendere le pompe della benzina Dei vari motori Della PU E motore 2 Ora l'unica cosa che ci rimane da fare Nel pre-accensione È quello di accendere le luci del beacon È perfetto La prima parte è stata fatta E ora passiamo a starting engine Quindi accensione dei motori Allora Qui purtroppo Seatbelt Cioè la cintura di sicurezza Non è attiva Ora sarebbe il momento di Dopo aver Ovviamente Prima di iniziare a accendere il motore Ci occupiamo E anche la PU a volte I piloti Si preparano L'FMS Quindi impostano la rotta Fanno tutti i controlli del caso Però noi oggi Questo Non lo andiamo a fare Andiamo direttamente Ad accendere L'aereo Dovremmo anche richiedere Di Rifornire il catering A bordo Di imbarcare i passeggeri Di imbarcare prima i bagagli Poi i passeggeri Facciamo finta che tutto questo Sia già successo Volevo farvi giusto vedere La GPU in più Come cosa Perché qui appare comunque Come disponibile Quando in realtà Non lo era Però ecco Fate voi Sta a voi Quanto volete avere realismo O meno In questo simulatore Comunque Andiamo avanti È arrivato il momento Di iniziare Ad accendere i motori Quindi Come prima cosa È controllare Che le manette Siano su idle Cioè su 0 In posizione Neutra Quindi Premiamo l'occhio Per andare a vedere Se per lui va bene Che le leve Come sono messe Premiamo Evaluation Sempre Quindi ora Mi dice di mettere L'engine mode selector Da normal To start Quindi lo mettiamo Su start E iniziamo Ad accendere Il primo motore Ora Aspettiamo Un attimo Quello che Dobbiamo aspettare È che N2 Ed N1 Siano stabili Se vediamo fuori Vediamo che Il motore Sta iniziando Ad accendersi A girare Ora aspettiamo Che N1 Sia all'altezza Della 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 manetta Su Su idle E poi possiamo Accendere Il motore Numero 1 Se non avessimo Acceso Se ci fossimo Scordati Di accendere Le pompe Si sarebbe Caricato N2 Però non Si sarebbe Caricato N1 Quindi ricordatevi Di accendere Le pompe Sempre Quindi Accendiamo Il motore Numero 2 Perfetto Ora Tutti e due I motori Sono stabili Quindi ce lo dovrebbe Confermare È infatti Confermato Perfetto Ora L'ultima cosa L'ultima cosa Che ci rimane Da fare È Spegnere L'APU Bleed Che ormai Il motore Sono accesi E il master switch Ok Tanto l'APU Funziona Alla fine Come ultima cosa Rimettiamo La manopola Da start A normal È fatta L'essolero È acceso Ed è pronto Per essere Pilotato L'unica L'ultima cosa Che vi dico È per quanto Riguarda Il pushback Nel caso Non ci sia In questo aeroporto Come Nel caso D Dell'aeroporto Mi trovo In questo momento A Gibraltar Potete ovviare A questa cosa Con un bug Immagino io Che è quella Di shift P Che sarebbe La La hotkey Per Per il pushback Togliete I freni Vedete In questo caso Anche se non ce l'avevo Nella torre radio Me l'ha attivato Con 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 il tag Nel caso Non ci fosse Sappiate che Shift P È buggato Quindi ovunque Vi trovate Se avete Disattivi i freni Inizierà Ad andare All'indietro Da solo L'aereo Ok Quindi Detto questo Io passerei Alla 32 NX Bene Allora Siamo nella 32 NX Siamo al punto In cui Vi chiedo Che se il video Vi sta tornando utile Di lasciare un mi piace È veramente importante Un commento Sia per delucidazioni Sia per appunti Nel caso in cui Siate più esperti Di me E io abbia fatto Qualche errore Sono veramente Molto ben accetti Se siete un nuovo iscritto Se invece siete nuovi Iscrivetevi Vi chiedo anche Se potete Di seguire La nuova serie Che è quella Delle tappe Del giro Del mondo Per me è molto bella Però non sto riscuotando Molto successo Se potete Andate nel mio canale Troverete la playlist Comunque Iniziamo Abbiamo Sempre il motore Spento Apriamo la checklist E vediamo Che a differenza Della checklist Standard Questa è molto Più complicata Vediamo anche Che non solo È divisa Per tutte le fasi Del volo Ma ogni fase Arriva anche Ad avere 86 punti Per la preparazione Per iniziare Vi dico che Se volete seguire La checklist In alcuni punti Magari si blocca Come nella sezione Wipers Che sono i tergicristalli L'evaluation Si blocca Quindi ora vi faccio vedere Cosa succede Partendo dall'inizio Ed è lui controlla Che intanto Gli engine switcher Siano a posto Che la manopola Sia sul norma Questi sono tutti Controlli normali Che landing gear Siano giù Che i flaps siano su Quando arriva a wipers Vedete che si blocca Per sbloccarlo E farlo continuare Nella checklist Basta premere Tick item E lui Parserà Alla cosa successiva In questo caso È la batteria Quindi Noi andremo a fare Esattamente Come abbiamo fatto prima E Partiamo Accendendo le batterie Batteria 1 E batteria 2 Vediamo che A differenza Della 32 Di default Non si sono accesi Display Si sono accese Qualche luci E si è accesa La console Del pilota automatico Normalmente Succede questo Non si accende Tutto quanto Per Iniziare ad accendere Anche gli schermi Bisogna che ci sia Molta più corrente In questo caso Come abbiamo fatto prima La corrente La prendiamo Esternamente Nel caso in cui Non ci fosse Possiamo Accendere Direttamente La più master In questo caso C'è È Disponibile Noi quindi Ora che abbiamo La torre di controllo Attiva Chiediamo No ho sbagliato Ground service Chiediamo Di Avere Il camioncino Della gpu Collegato Quindi Arriva E si collega Una volta collegato Come prima Accendiamo Il generatore esterno Come prima Ci assicuriamo Che il generatore 1 E il generatore 2 Siano su fault E in questo caso Va bene Ci assicuriamo Che l'engine 1 E l'engine 2 Bleed Siano accesi E in questo caso Lo sono Una volta abbiamo L'energia esterna Accendiamo La più master E accendiamo La più starter E vediamo Che i monitor Si sono accesi Si sono già accesi Quando ho Attivato La L'energia esterna Però Comunque Sono Ora Sono attivi Un paio di cose Possiamo notare Uno È che non abbiamo Né la mappa Della rotta Attiva Né Il display Di sinistra Dove abbiamo L'altimetro La velocità Le funzioni Del fly director E la rosa Non sono attivi Quindi Per attivarli Quello che dobbiamo fare È andare nel pannello superiore E impostare Queste manopole Da off A nav In questo modo L'aereo Inizia ad allinearsi Vediamo che È apparso lo schermo Ora Per quanto riguarda Lo schermo Della mappa Ci dice Che la mappa Non è abilitata Il Il GPS primario È perso Tra Sette minuti E lo vediamo Da qui Sarà attiva Quindi è solo una questione Di attesa Bene Passiamo Alla fase successiva A differenza Del Dell'A320 Stock Ora L'ICAM È attivo Per varie Per vari controlli Della strumentazione Di bordo Infatti vediamo Che il bleed Ora è funzionante Il pressure Non è funzionante L'idraulica Neanche Quella Della benzina È funzionante È funzionato I controlli Della strumentazione Quindi vediamo Che ci fa vedere Che è tutto Calibrato In questo momento Questo onestamente Non lo so Abbiamo le porte Questo non è attivato E abbiamo l'APU Prima dovevamo vedere Dovevamo tenere sotto controllo A che punto era L'APU Nella checklist Ora lo vediamo Direttamente Dalla pagina Dell'APU Quindi Se andiamo a vedere su Vediamo che l'APU start È available Quindi Possiamo attivare Disattivare L'Esternal Power E attivare L'APU bleed Quindi manderà L'area ai motori Fatto questo Attiviamo le pompe E ci prepariamo Ad accendere i motori Quindi Mettiamo la manopola Da normal A start E accendiamo Il primo motore Li teniamo sotto controllo Anche con l'engine Aspettiamo che l'N2 Sia pronto E ci assicuriamo Che poi Parta anche La ventola Dell'N1 Allora Come vedete Intanto che aspettiamo La luminosità Del display È molto bassa È possibile anche Che all'accensione Questi Due display Siano completamente Spenti Perché queste manopole Magari Sono impostate Su off In questo caso Non lo erano Erano già impostate Su uno Quindi La luminosità Per i due display Sia di sinistra Che qui a destra Per il copilota Sono queste manopole Per il display centrale Si tratta Di queste altre Due manopoline Qui Per la La console Del pilota automatico Si tratta Di queste qui Qua giù La stessa cosa In quello di default Per quanto riguarda Il pannello superiore Si tratta Di questa Manopolina Qui E il dome Se Funziona Si funziona Ma ora Il giorno Si vede poco Sono funzionanti Finalmente I pulsati Li switch Delle cinture Di sicurezza E del non fumatori Quindi Ora abbiamo acceso Beacon off Ovviamente Le varie luci A seconda di dove Ci stiamo trovando Se siamo parcheggiati Se siamo in taxi O se siamo sulla pista E come vedete Motore 1 è pronto E ora Motore 2 Perfetto I motori Sono stabili Quindi Scusate Non ci resta che Spegnere La pu bleed E il master E rimettere La manopola Sul norm Perfetto Questa è La spiegazione Della 32 nx Comparata A quella Del default Ora Fra due minuti Vedete che la mappa GPS Sarà Disponibile Vediamo Cosa Cosa mi sono Dimenticato Ovviamente Il parking brake È sempre qui Si imposta I flap In posizione Di partenza Se avete collegato Ancora la gpu Come in questo caso Magari Ancora i bagagli O il catering Una volta Comunque Attivato Il pushback Si staccano Tutti in automatico Ok Di solito Prima di Iniziare Il pushback Si aspetta Che il gps Si attivo In questo caso Non ci Non importa Perché è tanto Un simulatore Però nella realtà Ecco Si aspetta Si imposta Il barometro Si accende Il flight director Questo è importante Perché come vedete Qui Non ci Non ci fa vedere Chi si sta prendendo In carico Di cosa In questo momento Come nella realtà Bisogna Accendere Il flight director Per vedere Vediamo che abbiamo Il climb E il nav In stand by Quello che uno Si aspetterebbe Di trovare Si imposta Ovviamente Il pilota automatico L'altitudine A cui si vuole andare Si controlla Che tutto Stia seguendo Quella che è stata La rotta Impostata Nell'FMS Cosa che non facciamo oggi E poi Ci si prepara Vediamo che qui Tutto pronto Tra poco Dovrebbe apparire Anche la mappa Eccola qui Perfetto L'aereo è pronto È pronto per il pushback È pronto per Tutto quello che avete in mente Di farli fare Bene ragazzi Il video finisce qui Vi ringrazio Per la visione Spero che il video Vi sia stato utile E se lo è stato Mi raccomando Lasciate un mi piace Un commento Se siete nuovi Iscrivetevi E vi auguro Un buon viaggio E una splendida giornata